Tratterà il tema dell'integrazione del volontariato attraverso la testimonianza e la partecipazione di chi è impegnato quotidianamente in questo settore. E il workshop Io, meglio noi. Riflessione su una società inclusiva e partecipata, l'incontro organizzato dall'Avis e promosso dall'Asp e dal comune di Modica, sabato alle 9 all'hotel Torre del Sud. Riflettori puntati sulla cittadinanza attiva nelle varie sfaccettature della società. Durante l'incontro sarà presentato il libro di Anna Maria Fantauzzi, docente di antropologia medica e culturale all'Università di Torino e responsabile dell'Osservatorio Nazionale per la Cultura del Dono del Sangue di Avis Nazionale. L'iniziativa è stata presentata ieri in conferenza stampa. Vuole essere l'occasione per riflettere assieme sul problema dell'apertura e quindi di un'esperienza di cittadinanza attiva, di un coinvolgimento in quelli che sono i problemi del territorio e soprattutto i problemi di accoglienza e di apertura agli altri. Intanto prosegue l'attività di sensibilizzazione dell'Avis che nel periodo estivo ha registrato un bilancio positivo nell'attività delle donazioni. Anche quest'anno abbiamo avuto un trend positivo perché abbiamo aumentato rispetto all'anno scorso le donazioni e se noi pensiamo che in provincia di Ragusa ormai abbiamo circa oltre 20.000 donatori che durante l'anno donano oltre 30.000 donazioni e soprattutto nel periodo estivo sappiamo le difficoltà che ci sono spesso a trovare i donatori. Registrare un aumento è sempre un dato soddisfacente.